Prima le riconferme, poi gli arrivi. Nell'incontro tra Braia di Somma e la società sono state tracciate le linee guida per il futuro. Tra i primi dovrebbe esserci Fabiano Parisi. Il talento di Serino ha un contratto come giovane di serie che può essere mutato in un accordo professionistico entro il 31 agosto, cosa che la società può fare unilateralmente, blindando il calciatore con un accordo per una durata di tre anni. Giovanni D'Agostino vorrebbe fare del classe 2000 l'uomo immagine di quest'Avellino. L'intento è di trovare un'intesa con il procuratore del calciatore Mario Gioffredi per far rimanere ancora il difensore in Irpinia. L'Avellino vorrebbe cederlo al Genoa, società con cui di Somma ha ottimi rapporti, ma restano alla finestra anche l'Empoli. Accardi ha proposto un contratto di quattro anni e il Pescara, club con cui l'agente napoletano lavora molto. Gli altri elementi che faranno quasi sicuramente parte del team di Braia saranno Silvestri, Garofalo e Laezza. Al vaglio le posizioni di Celia Chialbadoro. L'Avellino sta monitorando la situazione in Casa Regina, dove in uscita ci sono 13 elementi. Nei giorni scorsi erano state prese informazioni su Corazza e De Rose, ma anche su Diumba, così come è stato offerto il portiere Guarna. Il nome nuovo è quello di De Francesco, tornato a Reggio dopo l'esperienza con lo Spezia in B. Non è da escludere che ci possa essere un blocco di calciatori proveniente dalla Calabria. Arini Ardemagni continuano a proporsi, così come l'agente del difensore ex Atalanta Cason ha sondato il terreno con il DS di Somma. Sul taccino del dirigente Biancoverde è finito l'attaccante Santaniello, 11 gol quest'anno con il Picerno e vecchio pallino del direttore di Castellammare.